La caccia di indizi nella Padova ottocentesca. Fiocano le adesioni da tutta la regione alla 14esima edizione della caccia al tesoro con delitto organizzata dal Lions di Padova. Misteriosi luoghi della città del Santo saranno passati al setaccio da detectivi arrivati da tutta la regione che si dovranno cimentare con un mistero da risolvere liberamente ispirato al libro La Giostra dei fiori spezzati del padovanissimo Matteo Strucull. Abbiamo ricavato tre percorsi proprio della Padova storica dell'Ottocento in cui ci si articolerà in viuzze con dei quiz, con delle prove di specialità e ogni percorso sarà una cosa molto molto particolare perché vedremo dei luoghi padovani storici vecchi dell'Ottocento che noi non avevamo mai riconosciuto o non conoscevamo. Una Padova ottocentesca sconosciuta ai più farà da sfondo e promette sorprese e suspense, divertimento e beneficenza spiegano gli organizzatori che per la quattordicesima edizione continuano a rinnovare il loro impegno a sostegno della ricerca e di chi soffre. Uno è per l'ospito pediatrico gestito dalla Franca Benini, un personaggio, una dottoressa di una umanità, di una potenza incredibile e naturalmente lo Iov. Lo Iov perché storicamente noi l'abbiamo sempre supportato in tutte le nostre 14 edizioni. Grazie a tutti.